Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori scarpiere. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con la scarpiera SoBuy. Iniziamo questa top con la super scarpiera di SoBuy. Questa scarpiera ideale per risparmiare spazio in casa e per evitare di sporcare la casa. Particolarmente utile se si vive in più persone, una scarpiera permette di riporre facilmente le scarpe una volta rientrate in casa. L'aspetto positivo è che si evita anche di avere il retro del mobile in cui si gettano le scarpe e che tutto sia in disordine. Inoltre questa scarpiera è molto pratica perché ha un sedile sulla parte superiore che consente di sedersi e di indossare facilmente le scarpe. Potete anche acquistarne più di uno se avete bisogno di più spazio dato che il rapporto con il tavezzo è molto buono e purtroppo non esiste un modello grande con sedile. Poi troviamo la scarpiera di Giulia Grillo. Passiamo a un'altra scarpiera altrettanto pratica ma un po' diversa. In effetti non abbiamo qui una scarpiera con seduta come il modello precedente ma una scarpiera grande con quattro scomparti. Ideale per le famiglie perché ognuno avrà il suo spazio per riporre le scarpe. Il modello è molto sobrio e semplice. È di colore bianco e se preferite potete scegliere lo stesso modello con tre scomparti. E per finire ecco la scarpiera più shopping. Per concludere ecco un modello di scarpiera di fascia alta la scarpiera di più shopping. La cosa che più ci piace di questo modello è la scelta dei colori. In effetti la scelta è davvero ampia e consente di avere la scarpiera che più si adatta ai propri interni. Un altro aspetto positivo è la resistenza della scarpiera. I materiali sono di ottima qualità e il modello molto resistente. Ecco grazie per aver seguito questo video. Spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link di prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.